Taranto e le sue potenzialità inespresse. Taranto che potrebbe diventare come Capri, Vienna, un video sui paralleli tra le varie realtà nazionali ed internazionali su come raggiungere una migliore vivibilità attraverso le fonti energetiche rinnovabili, un maggiore senso civico. Nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri si è concluso questa mattina il progetto PON Legali al Sud. Io spero che già i ragazzi abbiano apprezzato che dei professori giovani, oltre al normale percorso didattico che prevede la scuola, abbiano previsto per loro anche delle iniziative del genere, che parlino appunto di ambiente e di legalità. E poi insieme a loro durante tutto l'anno scolastico abbiamo sistematicamente affrontato proprio all'interno della classe, attraverso anche dei semplici dibattiti o delle ricerche sul web, delle ricerche telematiche, questi temi qui. Nel corso dell'incontro è stato presentato il libro Depiliamoci, liberarsi dal PIL superfluo e vivere felici, scritto da Roberto Lorusso e Nello De Padova. Dal PIL al BIL, che cosa bisogna fare per ottenere questo benessere interiore? Bisogna semplicemente non farsi ossessionare dal prodotto interno lordo, non farsi ossessionare dall'idea che la ricchezza venga dal fatto di dover lavorare in una famiglia, due persone, sei giorni alla settimana, tutti e due. Se solo si cominciasse a diffondere il part-time in maniera assolutamente diffusa, si potrebbe tranquillamente liberare quello spazio di lavoro che consentirebbe alla stragrande maggioranza di quelli che oggi sono disoccupati di trovare un'occupazione. Tematiche importanti che, secondo il dirigente scolastico Angela Maria Sant'Arcangelo, vanno affrontate subito a scuola per stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi.